pillole di dizione rubrica a cura di dizione punto it il sito della dizione italiana un esercizio utile può essere scegliere cinque parole che dovete memorizzare in maniera corretta ovviamente e cercare di usarle durante la giornata fatelo apposta insomma infilate nel discorso ripetetele spesso così vi entreranno in testa se ogni giorno riuscite a memorizzare almeno cinque parole farete passi da gigante se non doveste riuscirci non importa va bene anche con tre soprattutto però insistete e ripetetele continua a studiare su dizione punto it scarica le prime lezioni gratis e migliora la tua voce dizione punto it il sito della dizione italiana